Io e Pierangelo oggi ci scambiamo le pochette, vediamo che cosa esce fuori Ecco tutto quello con cui giocherò oggi Amo sei emozionata? Amo sono emozionata di provare Chiara Ferragni Non l'hai mai provato? È pazzesco, devi, devi, devi Amo che palette userò? Amo scegli completamente quello che vuoi Posso scegliere perché ce ne sono un sacco Proverò questa palette di Fenty Beauty che non ho Dillo se hai il coraggio Che cosa non mi hai fatto trovare nella pochette? Non ho le liner ragazze Non ho parole, quindi passiamo alla base E anche con i fondi ho un sacco di scelta Giusto un paio di correttori tra cui scegliere Ho usato questi due, sono leggermente più scure del solito Blush in crema, ora cipria E poi bronzer di Benefit Ma che belli questi prodotti di Benefit per le sopracciglia Innamorata Ed ecco qui i nostri look finali Fateci sapere se vi piacciono Siamo super carine E vi aspettiamo nei commenti per sapere se vi piacciono oppure no